Quali sono i nuovi modi di fare cultura oggi in Italia? I nuovi modi di fare cultura oggi in Italia sono tantissimi e la cosa più divertente, più interessante è che non li conosciamo tutti. Quindi se dicessi di aver risposto univoca direi una cavolata, ne stiamo scoprendo sempre di più. Sono pratiche culturali partecipative nelle quali i pubblici tradizionali delle industrie culturali vengono messi in gioco direttamente, anzi si mettono in gioco direttamente in prima persona e diventano stakeholder dei valori stessi della cultura. Quindi sono pratiche partecipative, sono pratiche collaborative, il cui obiettivo principale è quello di produrre dei valori che siano valori comuni e riconosciuti da tutti gli utenti. È proprio un modo completamente nuovo di pensare l'attivismo culturale poi, perché fondamentalmente poi si parla di quello. Artigianato e nuove tecnologie, un'opportunità per le micro e piccole e medie imprese italiane? Ovviamente il connubio tra artigianato e PMI, cioè tra nuove tecnologie e PMI, è la chiave di volta per riuscire a progredire. Quindi più che un'opportunità è un mandato obbligatorio, diciamo. Il punto chiave è quale tipo di infrastrutture si riescono a mettere intorno a questo legame, cioè quale tipo di ecosistema si va a creare. Perché, ok, c'è la crisi, però in qualche modo sembra quasi la crisi sia usata come una scusa per rimandare un impegno di tipo sia istituzionale, ma anche di molte delle parti in gioco. Per cui sì, è un'opportunità, ma va saputo a cogliere nel modo più intelligente. Quali sono le sfide che le imprese italiane devono saper cogliere per essere competitive sul mercato globale? Le sfide sono purtroppo tantissime, tutte difficili, ma credo che l'unica strada percorribile sia quella di affrontarle con intelligenza e con serenità. Direi, innanzitutto c'è il discorso della formazione, con quella che viene chiamata solitamente fuga dei cervelli, ma che in qualche modo è veramente una emorragia di capitale umano, l'Italia sta perdendo tantissimo in competitività sulla formazione. Quindi chiaramente bisogna trovare nuovi modi di pagare la ricerca sia nel pubblico che nel privato e soprattutto far rimanere qua i professionisti della ricerca e dell'innovazione, invece di spedirli all'estero e quindi perdere risorse che sono state investite. Sicuramente c'è un problema di governance, quindi di che tipo di organizzazione, di percorsi decisionali e politici in senso lato si riesce a mettere intorno ai percorsi della produzione e quindi dell'innovazione sostanzialmente. E poi c'è un grosso problema su un piano culturale che è quello di trovare modi di far dialogare in modo produttivo e anche serio chi si occupa di processo di innovazione con chi si occupa di produzione e quindi anche con la formazione con tutti gli altri ambiti. Perché in questo momento, dopo tanti anni di tappo completo nei confronti dei discorsi e delle pratiche sull'innovazione, c'è una grande effervescenza, questa è una cosa ottima, dubito che qualcuno la possa vedere in modo negativo. Adesso c'è bisogno di iniziare a lavorare con un po' di selezione anche, che è il lavoro che secondo me state facendo qua. Lei è project manager e ideatore del progetto Che Fare, ce ne parli? Che Fare è un progetto che consiste sostanzialmente in un bando da 100.000 euro per progetti innovazione culturale, promosso dall'associazione culturale doppio zero. Sostanzialmente Che Fare è una specie di tentacolo sensorio che estrudiamo nel mondo della cultura e della produzione culturale italiana per cercare di capire quali sono i nuovi modi di fare cultura e quali sono le possibilità di innovazione culturale. Che Fare è un processo di selezione abbastanza articolato, con una prima fase di selezione interna, una seconda selezione basata sul voto online e una terza selezione basata sul voto di una giuria. La selezione da parte del pubblico, da casa, come si dice solitamente, non ha assolutamente una funzione da reality show, ma ci serve per misurare una delle cose che forse oggi è più importante in assoluto, che è la capacità di un progetto culturale, di un nuovo tipo di istituzione culturale, di mettersi in relazione col proprio pubblico di riferimento, utilizzando il canale di comunicazione, soprattutto i nuovi media, ma non necessariamente. Sta lavorando alla nuova edizione del progetto Che Fare. Quando è in programma? Beh, questo è un po' un segretone, nel senso che siamo veramente agli sgoccioli. Diciamo che sarà sicuramente una novità imminente dell'autunno. Diciamo, manca veramente poco. Diciamo, mancazzi.